Terra Mater, Earth and Even, questa mattina presentata la seconda parte della mostra dello scultore toscano Andrea Roggi, iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Parco della Creatività in collaborazione con la Galleria Opera Arti e Arti. La personale di Roggi è in programma fino alla 18 settembre. Le opere si potranno ammirare dal 10 di luglio in Avviarido, la Piazza Duomo e in Piazza Vittorio Veneto di fronte al Convento di Sant'Agostino, mentre sono state già allestite quelle in San Pietro Barisano e presso il rione Pianelle nei Sassi di Matera. Una scultura viene completata dall'ambiente in cui viene esposta, quindi Matera penso che possiamo immaginare che è la città ideale per poter esporre i propri lavori. Sono 10 le sculture che sono nel percorso, che abbraccia un po' tutta la città, sia la parte dei Sassi, sia la parte più del centro storico. Dovrebbero rimanere fino a settembre, avremo anche rispetto all'impatto con la gente, se viene accolta in modo positivo, forse potremmo anche pensare di poter prolungare il periodo. Opere che si sposano al territorio come se fossero state concepite qua, rapporto con la natura, con le radici culturali, col tempo, con lo scorrere del tempo. Si vede anche in questa opera alle nostre spalle che è un po' il simbolo di questo straordinario artista, scultore e pittore italiano.